Ciao ragazzi a tutti, Sax vi saluta Oggi non solo Sax vi saluta nel video ma vi saluta anche nel live su Youtube Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi quasi due anni che faccio live su Youtube, dei traguardi che abbiamo raggiunto scusate se mi permetto di dire che abbiamo giocato insieme non solo io ma anche con voi spettatori con Blizzard abbiamo giocato con gli OP, abbiamo giocato con le Manguste abbiamo giocato con un sacco di iscritti, fortissimi non forti, ci siamo divertiti tantissimo poi chiaramente Sax si è spostato su PC ci sono stati anche alcuni problemi con alcuni iscritti mentre giocavo su PS4, alcuni scannamenti Odi, invidio contro ma siamo grandi e superiamo le cose e ringrazio anche queste persone perché comunque fanno parte del mio tragitto su Youtube sono comunque un po' dispiaciuto di lasciare Youtube perché lascio tante persone che mi seguono e so che tante altre persone ancora non mi seguono più non perché non mi piaccia come gioco ma perché appunto non possono giocare con me su PS4 e questo mi dispiace perché a me fa piacere anche avere loro in live avere voi in live e parlare con voi detto ciò mi trovate sempre su Twitch link in descrizione o il link sulle mie informazioni del canale o Sax Custom XYT su Twitch e niente, vi ringrazio ancora 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 il video di oggi sarà sempre sul nuovo mouse vedrete che ho ancora più familiarità con i movimenti e niente, che dire grazie, grazie, grazie ancora per tutto ragazzi se volete supportarmi ancora mi trovate su Twitch perché so che c'è ancora un po' di gente e non pochissima che mi segue ancora nei video e vi ringrazio ancora molto un bacio da Sax spero questo video vi possa che vi abbia fatto piacere mi trattengo da dire altro perché se no mi potrei anche emozionare un saluto da Sax bene boys bravo dobe, dobe grazie, grazie planting planting ash cambio caricatore difensori eliminati missione d'attacco riuscita e non dico altro raga e non dico altro eh bro bisogna sapere sparare purtroppo non basta solo il culo a questo gioco in questo gioco almeno non c'è non c'è non c'è c'è piano il disinnescatore è di nuovo nostro posizione insieme non è abbiamo il disinnescatore insieme cambio caricatore il disinnescatore il disinnescatore il disinnescatore si rimane in questa zona li hanno scoperto per me indietro disponibile il disinnescatore il disinnescatore il disinnescatore il disinnescatore il disinnescatore il disinnescatore l'ultimo nemico rimasto il disinnescatore il disinnescatore il disinnescatore il disinnescatore il disinnescatore il disinnescatore Don't kick! Don't kick, please! Ricarico, caprite me! Ricarica! 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 Squadra d'attacco eliminata! Missione completata! Bella kill, Bella kill! Bella kill, Bella kill! On me! He's on me! I me! I'll save you! I'm ready! è morto sledge l'ultimo attaccante è rimasto in vita l'ultimo attaccante è bomba squadra di attacco eliminata missione completata velo secondo velo secondo cazzo veloce 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 fatto 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 david fatto è che la c'è ancora scale sta da scale andiamo da scale 3-2 correte a prendere il defuser dov'è dov'è quanto che arriva da scale mancano 15 secondi io scendo io scendo tu vai 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 scendi tu buttati tu bravo l'ho preso lì rimangono 5 secondi oddio yes io ho preso il cazzo di vision che sfiga bravi voi potevo muovermi che sfiga di merda non prendere a maru che tento non si fai un cazzo non prendere a maru che tento non si fai un cazzo coooby lol vabbè vabbè